Se avete un accendino, accendete una fiamma, se no non partiamo, se no non partiamo. Allora, la voce da destra in avanti sarà il mio amico. Fai un talco, fanne un altro, fai la giravolta, falla un'altra volta, guarda in su, guarda in talco. Ciao. Allora, un grande amico, gli ho anche regalato un panettone, di nascosto, guarda. Lui è il bastardo, la carogna, con la testa di cazzo, diciamocelo chiaro, dai. Così, no? È vero? Perché un buon 2005 a tutti, lui è Brunaccio! Non ho sentito, Brunaccio! Ciao! Pish! Ok, vorrei sentire un applauso per la voce di Joshua Naderama, in questo momento, shock! Grazie! La storia della tendenza in Italia, questa notte qui, si unisce in un solo nome, in un solo posto, in un solo sacro luogo di musica. Voglio vedere tutta la vostra energia, shock! Su le mani che c'è la carogna delle console! Facciamo una nuova voce! Se dentro il tuo cervello c'è chi trema, c'è chi sogna, si chiama Bruno Power, ma lo chiamano. Se dentro il tuo cervello c'è chi, si chiama Bruno Power, ma lo chiamano, carogna! Ma lo chiamano, carogna! Ma lo chiamano, carogna! Tutto quello che è intorno sta cambiando, niente riuscirà mai a fermarlo, qualsiasi sembra fermo è in movimento, guarda Bruno Power, il mio tormento, se la fai o no? Sì, si vogliono le mani a tempo, le mani a tempo di Bruno! Mani, 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 mani! Oh, Can'tke, uh, break! Grazie a tutti. Facciamo tutti lo stesso solo, il nostro mondo! Grazie a tutti. 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 con tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.